C'è un furgone con della gente con dei mitra, delle pistole. C'è gente qua con i tabucci. C'è gente che scappava con i mitra, le pistole. Quante persone sono? Guardi, almeno una decina di persone c'erano. Hanno messo pure a fuoco. Hanno bloccato la strada pure qua, non ci può passare. Sette fermi. Sono il frutto dell'operazione Cheleos, lunghe e laboriose indagini che il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la squadra mobile di Catanzaro, in collaborazione con quella di Foggia, sotto il coordinamento della Didia Calabrese, guidata da Nicola Gratteri, hanno eseguito nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili della rapina al cavò dell'Istituto Sicur Transport, avvenuto in località Profeta di Caraffa, alle porte del capoluogo, la sera di domenica 4 dicembre 2016. I provvedimenti sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti accusati di formare parte della banda che è riuscita nella rapina più fruttuosa mai compiuta in Calabria, ben 8 milioni di euro, messa in atto con strategie subito definite dagli inquirenti come paramilitari. Quattro i catanzarese implicati, i pregiudicati Giovanni e Leonardo Passalacqua, di 52 e 44 anni, il dipendente dell'Istituto di Vigilanza Massimiliano Tassone, di 49 anni, e l'imprenditore Cesare Ammirato, di 69. Assieme a loro altri due imprenditori, il 41enne Cosentino Nilo Urso, di Rossano, e il 42enne Crotonese Dante Mannolo, di Cutro. Infine il pregiudicato barese Mario Mancino, 41 anni, di Cerignola. Nell'ultimi giorni, negli ultimi dieci giorni, c'è stata un'accelerazione di questa indagine e il fermo è motivato dal dato che il Passalacqua, che è uno dei promotori e basisti e organizzatori di questo assalto, voleva uccidere la moglie, perché l'accusava di aver rubato una parte di questo bottino, circa 120 mila euro, degli 8 milioni rotti. E quindi lei si è impaurita e è corsa dalla polizia e ha incominciato a parlare. È stata sempre con due cuori, perché non voleva denunciare il marito, ma allo stesso tempo aveva paura di essere uccisa. Ma voi in queste indagini troverete la bontà della tecnica di indagine, cioè le intercettazioni telefoniche e ambientali e lì riuscire ad inannellare i filmati che su tutto il territorio della provincia di Catanzaro sono stati utilizzati per le varie telecamere sparse appunto su tutto il territorio. Un'indagine molto importante e bella. Già nell'estate del 2016 alcuni soggetti di Cerignola, dediti a reati del genere, erano stati avvistati in Calabria tra Cosenza e la Mezzaterme. Una pista, quella pugliese, rafforzata prima da precisi contatti con un imprenditore cosentino per l'utilizzo di un grosso escavatore utile a spaccare il muro di cemento armato e poi dal ritrovamento, in casa di un sospettato, di una banconota riportante il timbro dell'Istituto di Vigilanza Catanzarese in cui la banda avrebbe trovato anche il suo fondamentale basista. Secondo le investigazioni eseguite, parte del bottino è stato poi distribuito quale dono in segno di rispetto e deferenza ai capi delle principali consorterie di Indrangheta del Catanzarese e del Crotonese. Catanzaro è controllata dalle cosche crotonesi. Il basico è un dato che emerge da diverse investigazioni sia nell'ambito del processo Criterion che ha come oggetto il locale di Cutro sia nell'ambito del processo cosiddetto Johnny che ha l'oggetto le cosche isolitane si dimostra che il territorio è controllato da questa sorta di confederazione delle cosche crotanesi. Nel caso di specie abbiamo elementi forti per dire che il Cutresi, Mesorachesi, Petilini e isolitani hanno concesso, hanno autorizzato questa rapina contribuito alla logistica. Quello che impressiona è quanto i Rom siano ormai aggregati alle cosche siano fra loro coesi. Penso che il risultato di questa indagine voglio essere un po' presuntuoso possa scoraggiare altri eventi del genere possa scoraggiare la criminalità organizzata calabrese a pensare di organizzare questo tipo di assalti perché c'è un valore aggiunto ora in procura a Catanzaro la grande determinazione il non voler mollare l'osso e c'è una grande carica un grande entusiasmo nelle forze dell'ordine. Questo è un valore aggiunto che consente di riuscire a ottenere questi risultati vi faccio un esempio di questo valore aggiunto di questo grande entusiasmo nel momento in cui la polizia giudiziaria chiede un telefono in 8-12 minuti il telefono è lacciato in altri posti si spetta anche due mesi. Grazie a questa signora la Cervilana Maria Grazie a tutti